L'Aquila fa il pieno di sottosegretari. Nella città in cui è stata eletta Giorgia Meloni e che ha espresso il primo sindaco e il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia, i due nuovi sottosegretari sono Fausta Bergamotto, in quota Fratelli d'Italia, ex assessore comunale del primo mandato Biondi e da vent'anni dirigente della presidenza del Consiglio dei Ministri, e Luigi Deramo, in quota Lega. Fausta Bergamotto entra come sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy del ministro Urso, prima di lei soltanto la senatrice aquilana Elena Marinucci, mentre il coordinatore del Carroccio è tra i sottosegretari del Ministero delle Politiche Agricole, che ora si chiama Dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, guidato dal ministro Francesco Lollobrigida. Le reazioni ovviamente sono state tantissime in città, a partire da quella del sindaco Pierluigi Biondi, passando per quella del governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio, che parla di un Abruzzo, di una regione rafforzata. In festa ovviamente c'è anche la Lega. Dopo le elezioni c'era stata una certa delusione per la non rielezione di Deramo, che era deputato. Così, come ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente, l'azione della regione Abruzzo, grazie all'Ugideramo, sarà rafforzata in un settore che è considerato strategico, quello dell'agricoltura appunto. Ovviamente le reazioni dall'altra parte sono di tutt'altro tenore. Il PD ha diffuso una nota dei segretari, che parla di nomina che mortifica alcuni territori, come la Marsica, la Valle Peligna e l'Alto Sangro.